Ciao ragazzi e benvenuti sul canale, benvenuti con un nuovo oggi, finalmente continuiamo la serie di Nifo Speed Underground Dico finalmente perché ogni volta non vedo l'ora di iniziare a registrare questo titolo Allora, andiamo subito in un race map senza perdere altro tempo Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché ci tengo tantissimo Allora, siamo arrivati a 37 su 111, quindi di riportarci anche, non so, magari anche fino a 45 Vediamo, vediamo come va Allora abbiamo No Love From Curse, circuito Non me lo ricordo se l'avevamo già fatto raga Madonna i tasti è vero, me li dimentico sempre, vai Mamma mia Oh, attenzione, qualcuno si è schiavellato malissimo Che schiavellato malissimo Buono dei gelati Attenzione Poi prendiamo la scocciatoria a destra e quindi stringiamo qua Molto bene Ecco qua, vediamo di non fare la fine del flipper Ecco No, non la fine del flipper Prendiamolo proprio in faccia al muro Bellissima questa entrata Ok, ci siamo Tac, scatta l'ultimo giro Vediamo di non fare i cavolate Li abbiamo letteralmente asseminati Ragazzi, non so se sono io o boh, non lo so che sono fresco ancora Ecco, fatti Gli ultime parole date Vai, 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 vai Dunque, davvero li abbiamo asseminati? Non lo so, non capisco Stiamo giocando sempre in difficoltà media Cioè, li abbiamo davvero asseminati Guarda, riesco a vederli forse davanti a me Nella minimappa Oh sì, guarda, li vediamo davanti a me nella mappa Nella minimappa Cioè, è pazzesco Sono così veloce? Devastante sto lancer Anche qua Tutto bene Occhio qua No, 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 no Ok, perfetto Boh, è terminato anche questo circuito da 6 giri Mamma mia Ok Import racer, put your own cover on their magazine Import racer Vala, bello Oh, finalmente, vada là Allora, raga, vediamo un attimo se Questo misride Sì, no, niente, non lo vedete ancora Perché accelerazione non lo vedete Vabbè, comunque, raga O almeno l'ho spassato Ho cercato di migliorare Perché non posso praticamente Vedere l'anteprima del gioco Perché Questo gioco si apre in un'applicazione diversa Quindi per me è un po' più difficile Vabbè, raga, dai Continuiamo allora Abbiamo un torneo di drifting Comunque per il circuito prima Di prima, raga Per il circuito di prima, raga Mi stavo confondendo Vabbè, bruttissimo Mi stavo confondendo con il circuito Che abbiamo fatto nell'ultimo episodio Quello sempre da 6 giri Perché siamo partiti subito E non mi ricordavo Che dopo la sparo Perché se non sbaglio Nell'ultimo episodio ci siamo lasciati Con una sparo Non mi ricordavo per l'appunto che Subito dopo c'era un altro circuito A 6 giri Come ti raffermano? Ecco qua Ah, adesso si Eh, raga, ci siamo Ultimo giro Devo dire che Nella classifica ora Ti raggiungono più facilmente Oddio Mica tanto Però l'abbiamo devastati 66.000 Rispetto a 25 Aspettazione Non look Senza guardare Guardando la classifica Olè Mi aveva lock Da unique Vinil Un vinile Unique 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 sta per unico O si chiama proprio Unique Vabbè Andiamo alla prossima gara Vai, 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 vai Vai così In seconda In seconda Frenna a mano Ma mazza raga Quanto è lungo Questo circuito No, no Dove sto andando Dove sto andando Eh, ciao Bello questo No, troppo stretta No raga Eh, vabbè Devo concentrarmi raga Devo concentrarmi Devo concentrarmi Quindi Ci vediamo A fine gara Raga, scrivetemi nei commenti Ai tempi che giocavate N4Speed Quanti Quante Cioè, qual è la combo Più lunga che avete fatto? Sono curioso di saperlo Insomma Quanti punti avete fatto In un'unica Derapata Vediamo Io A dire il vero Non me lo ricordo Però magari voi Ve lo ricordate O avete qualche clip Un po' scarsini Devo dire che Sul drift Possiamo mettere anche Difficile Il problema Che in difficoltà Difficile In difficoltà Hard Non so Loro quanto siano bravi Ok È davvero No, ho rovinato Di quei bei punteggi Vabbè, ci siamo 99.000 Raga Ok, ecco la terza gara Non so quante gare siano Sinceramente Non ho letto Bella questa Questa è diversa Siamo tipo in un autosilo Questa qua è stile L'Infrospeed Underground 2 Che si fanno le corse Tipo Si fa il drift Negli autosilo Poi ci sono tutte Tipo Non so più parlare Raga Ci sono tipo Gli autosili Più strani del mondo L'Infrospeed Underground 2 Vai Bella Questo me lo ricordo Ok Vai Primo giro Ve l'ho mostrato Come sempre Per mostrarvi il circuito E ora Ci vediamo alla fine Madonna 10 No 13.000 L'ho rovinato Cosa ho fatto 13.000 punti L'ho buttato nel cesso Cavoli L'ho buttato via Una derapata Nella 13.000 Porco Due Era pure carina Avevo fatto un pendolo Di quelli belli 5.000 Vai così 5.000 Abbiamo finito il torneo Buono Buono Abbiamo sbloccato anche la centralina livello 2 Buonissima Anche il turbo I freni E vabbè E' il circuito del drift Boom Ci sta Andiamo a montare tutto Raga Allora Allora Customs ride Visual Ah vigil Cos'è che c'è Praticamente Ah si Mi fa vedere Praticamente I Un attimo Si possono mettere Ah Anche sul cofano Possiamo metterla adesso Eh vediamo un attimo Cosa c'è di bello No No Non è che sia un granché Vediamo Hood No Tear Sono i fulmini Eh carina raga la rosa eh Non è male Però è un po' più femminile No no dai Andiamo Già che siamo allora Visto che ci ha annullato tutto Andiamo a Mettere Qualcosa di nuovo Andiamo a montare le cose più importanti Quindi era Se non sbaglio Era dalla centralina in poi Tutto a livello 2 Eeeh Adesso lo vedete Guardate top speed Quanto cambia Cioè diventa un missile sta macchina Impressionante E vabbè qua poi Il pacchetto cambia poco Ok E questo l'abbiamo messo Turbo A livello 2 Uh mamma mia L'accelerazione lo aumenta Eh ma io un botto anche Voi non lo vedete Perché c'è la webcam davanti Ma Vi assicuro che è aumentata Un bel po' E lo mettiamo Della Gravity dai Ora passiamo ai freni Ah guarda che bello Guarda la differenza Minchia Bello Ci sta eeeh Brembo Ovviamente E poi abbiamo la riduzione Peso Che però L'abbiamo installato Ma non abbiamo Ok Ah ci manca praticamente Il NOS Le sospensioni Eeeh La riduzione peso Buono dai Andiamo a provare l'auto Allora In questa Eeeh Condizione In questa nuova condizione Rismap Cosa ci aspetta Inner city knockout Ok quindi un circuito L'eliminazione Vai 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 così Proviamo sto nuovo mezzo Com'è Con le modifiche nuove Quelle clips Ci ha bruciato Ma Eeeh Vabbè Calmi Madonna raga Mi dimentico sempre Che qui si resetta l'auto Dai dai che le andiamo a prendere Dai che le andiamo a prendere Dai che si schiantano Dai che si schiantano Mamma mia quel taxi Ve l'ho visto E niente L'uomo messo in freno Il livello 2 Non cambia niente Lo stesso Ah Non ha preso la scocciatoia Vai La prendiamo noi Vai 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 Quanto rusa Quelle clips Raga Rusa Da bestia La prenderemo Quelle clips Valedetta Ma lo spero Schiantatevi Schiantati Sì Qualcosa è successo Raga perché è rallentato No Donna Eh questa è sfida Raga Queste clips Uh mamma Si è scantato Si è scantato Si è scantato Si è scantato Vediamo di non schiantarci anche noi Madonna raga Abbiamo eliminato Quello con le clips No Vedi Ecco Questo è quello che dico sempre Quando dico che è uno schifo Sta Sta specie di parte Come si dice Sti salti Perché non vedi dove vai a atterrare No Il furgone non mi fa Prendere la scocciata No 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 Ha fatto un casino Vai 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 No Mi sa che si è scantato Che culo Eh no Vabbè Ma questa è sfiga però Dai 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 Levatevi dalle palle Mamma mia raga Abbiamo avuto un bel culo Eh Abbiamo sculato parecchio qua Perché Ho preso malissimo la scocciatoia Oddio Qua falla bene qua Piano Così non incontriamo nessuno Vai così Mamma mia Ma raga abbiamo sculato parecchio In questa gara Mamma mia E meno male che si è scantato quel tizio Perché se no Abbiamo perso la gara Cos'è che abbiamo sbloccato Side skirt Sono le minigonne Buon adesso lo vediamo Vai Andiamo a vedere raga Cosa abbiamo sbloccato Side skirt Body Sì Side skirt Sì sono le minigonne Ok Renegade Shadow Eh adesso però Io direi comunque di Di vederlo dopo Comunque vedere tutto il kit Perché non avrebbe senso Adesso comunque Mettermi la minigonne Allora Race map Vediamo la prossima Abbiamo un drift Una sprint Vai 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 Quattro giri a manetta Sì Bellissimo Sì Ok Concentrato raga Concentrato Adesso Qui Ecco appunto Vedi Comincio a parlare Qui comincia a diventare più difficile Le situazioni Più si va avanti E più davvero diventa difficile La situazione Infine Ad arrivare al 100.000 Stavolta Vediamo 98 99 Sì 102.000 Vai Bellissimo Import timer Puts your own The cover On day Magazine Ah ok Ci ha messo Ma non ci aveva già messo Import timer Sulla copertina Vabbè vediamo Ah e siamo ottavi Nel drift Buono buono Stiamo cominciando a salire Comunque Classifica Allora Vediamo un attimo Import timer Ma è bellissima Questa copertina Ma è stupenda Con la cinesina Bella bella Allora Continuiamo Dai Race map Io direi Cross town dash Vediamo un attimo C'è sta drift Sì dai Facciamo sta drift Spariamoci sta drift Vai raga Vai vai Dai C'è l'eclipse Mamma mia Questi episodi Stanno devastando Sono velocissime Niente Non ce l'abbiamo fatta Raga Abbiamo perso Vai raga Riproviamo Guarda Guarda come parte Levati Levati Ok Se riusciamo a tenerlo dietro Forse Li teniamo testa Ecco Sì però Così E vabbè Grazie Figlio di puttana Niente raga Anche questa L'abbiamo persa E vabbè Riproviamo Non lo so raga Eh Qua sta cominciando a diventare più difficile Vai Schiavellati Eh l'unico modo è così raga Altrimenti non si riesce ad andare avanti Anche perché Boh Sto sudando raga Sto sudando malissimo Perché sto già che poi alla fine mi superano No Non ci credo Mi ho superato alla fine Vai vai che si è scantato Levati Non ci voglio credere Non ci voglio credere Vai Mi rifacciamo Ma Schiantati E vabbè Però c'è i civili Che mi chiudono la strada Occhio qua il muro Non si riesce a fare Occhio qua il muro Ok La metro Buono Qua siamo passati puliti Occhio 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 Levati dalle palle Grazie Occhio Levati dai coglioni Taxi via Dai fate spazio Taxi via Taxi via Uuuu Dai 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 che abbiamo 4 secondi Siamo 4 secondi Più veloci di loro Madonna raga Oh Me la sto sudando Sta sprint Ma malissimo Proprio Ecco qua Qua io devo frenare Un botto di più Rispetto a loro Qua non so che traiettoria Usano loro Me ne so di qua Stavolta Mi ho fatto una cavolata Buono pulitissimo Pulitissimo Qua ce l'abbiamo fatta Uuuu Mamma mia Sì Sì Madonna raga Un aborto Madonna raga Un parto Sta gara Uuuu Questa che mi è sbloccato Di Toyota Selica A Selica Per un attimo Avevo letto Supra E niente E siamo Ottavi Nella sprint Bye Ok raga Facciamo questa drag E poi direi che possiamo Salutarci Perché sì Non siamo arrivati A 45 Però Siamo quasi Un'ora di Desistrazione Quindi Allora Take on Ah ok Perfetto Quindi Saremo ottavi In classifica Se vinciamo questa gara Buono buono Come short shift Ah ora si Nooo Eh raga No Rifacciamo No Niente Niente raga Il proviamo Niente Niente Non lo recuperiamo più Vai 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 Niente Sempre secondi Rifacciamo Di nuovo Oh raga Noi siamo Abbastanza veloci Addirittura Abbiamo esploso Cioè ma io posso Schiantarmi Perché uno si schianta Dai 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 Che con la scia Lo prendo Dai che con la scia Lo prendo Dai 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 Cazzo Dai 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 Sì Sì Ce l'ho fatta Madonna Madonna Sta dicendo qualcosa raga Ma non l'ho capito Mamma mia questa Sta diventando difficile Sta diventando molto difficile raga Il gioco 300 vediamo 8 in classifica Niente Neanche Neanche una modifica Nulla Va bene Ok raga niente Nel prossimo episodio Ci spettano Weirder Smoke Deer Vabbè Vabbè Fuma di qua e di là E Partiamo dalla Dalla 43 Su 111 Non riesco più a parlare raga Sono devastato Questo episodio è stato pesantissimo E sta diventando molto 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 difficile Qua la La situazione Comunque noi raga Ci vediamo nel prossimo episodio Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lascio il link in descrizione Per chi Insomma Volese Dare un'occhiata anche ai miei social Ciao belli Iscrivetevi al canale 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 Grazie a tutti.